Si è celebrata ieri a Valdilana la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Secondo il programma della sede Amnil di Biella, alle ore 10 ho avuto il raduno dei partecipanti nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Eusebio a Valle Mosso, poi cerimonia civile nella sala Biagi con gli interventi del sindaco di Valdilana, Mario Carli, del presidente Amnil di Biella, Mauro Lora Moretto. E durante la cerimonia, dopo la relazione del presidente, sono stati consegnati brevetti distintivi d'onore ai nuovi grandi invalidi e agli invalidi minori a cura dell'Ain di Biella. Ed ancora il corteo accompagnato dai confaloni delle pubbliche amministrazioni. Perché chi opera nel lavoro dei campi, delle officine, dei cantieri, siano preservati da ogni pericolo e sciagura. Preghiamo. Preghiamo. Preghiamo.